Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive2.0 Chi non conosce Gary McKinnon? Bene, per chi non lo conosce fu l'uomo che hackerò gli archivi del Pentagono. Descritto come la persona che ha realizzato la più grande intrusione illegale di tutti i tempi ai computer militari. E dopo essersi salvato dall'estradizione, tornò ad attaccare la NASA accusandola di nascondere le prove degli alieni. Ora Gary è ritornata a parlare su Reddit il mese scorso. Ma vediamo di fare una sintesi dell'accaduto e poi vi leggerò il posto pubblicato a febbraio scorso da lui stesso. Nel 1983, quando Gary McKinnon aveva solo 17 anni, andò nel suo cinema locale nel nord di Londra per vedere un nuovo film chiamato War Games. Nel film, un genio del computer si intrufola in una rete del Pentagono. Il film ha avuto una grande impressione su Gary e lo ha preso molto, fino a farlo pensare che forse poteva essere anche lui un hacker. Il suo interesse per la fantascienza, i misteriosi veicoli volanti e la sua passione per l'hacking lo avrebbe portato solo in una direzione. Tra febbraio 2001 e marzo 2002, Gary McKinnon è stato in grado di hackerare le reti dei computer americani, dove avrebbe scoperto tutta una serie di informazioni che lo avrebbero portato in acque profonde, rischiando una possibile estradizione negli Stati Uniti. McKinnon ha affermato che è riuscito ad accedere ai siti web della NASA e in un'intervista a Rich Planet TV ha affermato di aver trovato informazioni relative a veivoli volanti avanzati. Ha affermato di aver visto un foglio Excel che conteneva i gradi e i nomi di persone sconosciute, nonché un altro foglio che aveva schede per i trasferimenti di materiale. Ha cercato di fare qualche ricerca sui nomi delle navi, tra le 8 e le 10 in totale, ma non è riuscito a trovare altre informazioni relative a nessuna di esse. Alla fine di febbraio 2022 è andato su Reddit, dove i membri potevano contattarlo e ha detto quanto segue. Ciao, sono Gary McKinnon. Sarò breve, ma ci sono alcune cose che sento sia importante sottolineare, quindi sai dove vengo. Mi scuso per non aver fatto una risposta video dal vivo. Ho un paio di progetti commerciali in corso che mi vietono di fare audio-video in relazione alla mia storia e grazie a Reddit per avermi inviato a fare questo AMA. Sono stato arrestato nel marzo 2002 per hacking in varie reti governative militari in America, alla ricerca di prove di UFO e free energy. Non è stato un trucco intelligente, nessun pacchetto frammentato per aggirare i fireware o qualsiasi altra schifezza. Avevo un'intenzione specifica e, come ogni buon amministratore del sistema che ero all'epoca, volevo un processo semplice che catturasse i punti deboli di base, a volte a livello di rete, con uno script semplice e un po' di creatività. Era più cracking che hacking. Come ogni amministratore di sistema sa, la soluzione più pigra è spesso la migliore. Nel mio sforzo per trovare prove solide che il governo militare conoscesse queste tecniche, ho seguito le informazioni trovate in un libro del Disclosure Project, gestito da Stephen Greer. Nel libro, Donna Ear, che era una specialista della fotografia di lancio della NASA, ha affermato che nell'edificio 8 del Johnson Space Center c'era un laboratorio riservato appositivamente per eliminare gli UFO dalle immagini satellitari ad alta risoluzione. Lo strumento che ho scritto ha scansionato gli account amministratore locali su PC Windows, che avevano una password. È stato scritto in Perl e scansionato una classe B in 8 minuti. La bassa latenza era dovuta al fatto che eseguo la scansione su una macchina già compromessa sulla stessa o su un'altra rete militare governativa. Ho trovato l'edificio 8 leggendo le sezioni dei commenti dei PC tramite la console di comando. Questi campi sono usati per l'auditing e fortunatamente la NASA li ha riempiti tutti, quindi sapevo quali PC erano nell'edificio 8. Non c'erano molte macchine nell'edificio 8, ma una delle prime che ho guardato aveva cartelle chiamate grezze ed elaborate o grezze e pulite o filtrate. Le immagini avevano una media di circa 250 MB e avrebbero impiegato molto tempo, a 5 minuti per MB su un modem da 56K. Quindi, avendo il controllo remoto del PC tramite un programma chiamato Remotely Anywhere, ho deciso di visualizzarlo dal vivo sul desktop, il che era rischioso dato che lavorano in orari strani alla NASA. L'immagine stava scendendo molto lentamente tramite il programma basato su Java, quindi ho tagliato il colore a 4 byte, 16 colori sfumature. È la risoluzione più bassa che era, 640x480, penso potrebbe anche essere 320x240. L'immagine riempì lentamente lo schema e poteva vedere l'oscurità, sovrapposta alla quale c'era un pianeta blu-bianco e sovrapposta a quella c'era una forma tubolare che era di un bianco metallico e aveva delle cupole attorno alla sua circonferenza centrale e alle sue estremità. Questa cosa non aveva rivetti o cuciture e sembrava futuristica, anche se ovviamente con la bassa risoluzione e il numero di sfumature nell'immagine mancavano i dettagli. Questo era il mio momento a Eureka, il laboratorio di Donair esisteva ancora. Stavo aspettando che questa immagine scendesse e stavo pianificando il modo più veloce per farmi avere tutte le altre immagini e proprio mentre stavo facendo i miei piani ho visto il cursore del mouse spostarsi in basso a destra dello schermo. A destra fai clic sull'icona di rete e scegli Disconnetti. Ero stato catturato e disconnesso. Perdendo la mia occasione di catturare anche una singola immagine. Non ho mai fatto danni intenzionali occidentali, non sono un vandalo, ma ho lasciato messaggi stupidi sull'interruzione del loro senso di sicurezza. La mia famiglia ed io abbiamo quindi combattuto la mia possibile estradizione in America per dieci anni. So che questa è una vecchia storia e non molto pubblicizzata in America in quel momento, quindi mi scuso che non ci sia nulla di nuovo, anche se si spera che domande interessanti producono risposte interessanti. Lascia che ti racconti cosa mi è successo nel 2006, forse l'unica cosa strana che mi sia successa. Un uomo in nero, a parte essere seguito dallo stesso furgone per due ore una volta in Inghilterra. All'epoca vivevo in un monolocale essendo disoccupato a causa del mio caso in corso, che è una stanza in una casa condivisa. Ero al primo piano, un piano se sei americano. La mia signora ed io eravamo andati a letto sul mio divano pieghevole. Penso che ci fossimo addormentati intorno a mezzanotte. Mi sono svegliato da un sonno molto profondo, quindi penso che dovessero essere circa le due o le tre del mattino. Sono stato svegliato da un dolore molto acuto al tallone sinistro, così acuto che mi sono svegliato di soprassalto e ho allungato la mano fino al piede per vedere cos'era. Dopodiché sono stato forzato a dormire di nuovo, è stato come andare in anestesia generale. Così sono passato allo sciocco doloroso al sonno istantaneo. La mattina, la prima cosa a cui ho pensato, è stato il dolore al tallone. Ho guardato il mio piede, ho scoperto che era andato a letto con i calzini e c'erano due buchi nel calzino del mio tallone. Ho rimosso il calzino e ho trovato due fori perfettamente rotondi nel mio tallone, ciascuno di circa 5 cm di diametro e uno con un lembo di pelle perfettamente circolare che pendeva ancora da esso, come se qualcuno me lo aveva fatto con un perforatore di carta in miniatura. Non posso spiegarlo fino ad oggi e posso solo presumere che sia un chip. Ho usato dei misuratori di campo su di esso, ho avuto un magnetometro supersensibile che non mostrava altro che due grumi cresciuti sul tallone. La storia di Gary McKinnor ha dell'incredibile, anche se non ci sono state mai delle prove concrete su quello che ha visto. Voi cosa ne pensate di Gary McKinnor? Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci sentiamo alla prossima. La storia di Gary McKinnor